Uno dei settori a non aver conosciuto crisi in questo 2020 è senz'altro quello legato all'informatica e alla tecnologia, ma un po' tutto ciò che ci aiuta a restare connessi e a dare un ulteriore impulso a un settore in salute ci ha pensato anche il ricorso massiccio allo smart working, senza dimenticare le sopravvenute esigenze legate alla didattica a distanza, tanto la scorsa primavera quanto questo autunno. I consumi in questo settore non hanno mai smesso di galoppare, a incentivarli anche una campagna di marketing mirata a fare da traino all'imminente Black Friday, malgrado le richieste di rinvio arrivate da alcuni esercenti, vista la seconda ondata pandemica in atto. A testimoniarcelo chi lavora tutti i giorni a contatto con i clienti. Ritengo che in un momento di grande emergenza sanitaria, seppur rispettando tutti i canoni di sicurezza che quotidianamente vengono assolti nel nostro punto vendita, con ovviamente ingressi contingentati, presenza di mascherine e guanti, presenza anche di prodotto per la sanificazione delle mani, abbiamo ritenuto opportuno anche quest'anno aderire alle promozioni del Black Friday. Diciamo che il cliente deve continuamente essere soddisfatto dalle continue offerte che noi proponiamo e anche quest'anno ci saranno continue offerte che soddisferanno anche tutti i nostri clienti e tutte le aspettative. PC, tablet, smartphone, ma quali sono i prodotti più ambiti? Sicuramente il reparto informatica e tutta la parte dell'informatica è stato un elemento che ha fornito grande aiuto e quindi abbiamo fornito grande aiuto a tutti i nostri clienti, anche perché con l'inizio della DAD e con l'inizio appunto di tutte le operazioni di lavorare a casa, quindi smart working, dovevamo in qualche modo aiutare e sostenere tutti i nostri clienti. Sicuramente perché ha bisogno comunque di continuare una vita sociale, sicuramente tutti hanno esigenza di un televisore a casa anche perché il tempo che trascorre a casa adesso si è allungato, vendiamo anche tanti piccoli tromestici in questo periodo anche perché le persone appunto stanno di più a casa. Insomma ritmi sostenuti e richieste disparate con gli operatori spesso chiamati a svolgere un ruolo sociale di ascolto. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra in questo momento per aiutare tutti i nostri clienti, collaboratori si sono tutti quanti uniti come il nostro appunto fare, come la nostra politica aziendale di aiutare la risoluzione del problema anche perché oltre la vendita noi ci occupiamo anche di assistenza software, per cui non tutti quanti sono pronti ad aiutare i propri figli o appunto le proprie persone che lavorano a casa, quindi noi sia telefonicamente sia fisicamente ci siamo adoperati per sostenere anche le esigenze dei nostri clienti. E non sempre Lucano predilige l'online. Offriamo un servizio continuativo con il cliente, un servizio che ovviamente non viene offerto su internet perché internet vende il prodotto e non vende il servizio e non vende l'assistenza.